Venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi e io vi darò sollievo, portate su di voi il mio gioco e imparate da me che sono mite ed umile di cuore e troverete ristoro per le vostre anime, poiché il mio gioco è soave e leggero è il mio peso. Grazie per questa bella giornata e questo bel sole.